Tagli alle linee della circunvesuviana per il periodo estivo, in particolare le soppressioni sono in programma a partire da oggi 27 giugno fino al 31 agosto. Per quanto riguarda la linea Napoli-Sorrento, i seguenti treni direttissimi feriali non saranno effettuati fino al 31 agosto 2022. Il treno delle ore 6.48 da Sorrento per Napoli, il treno delle ore 18.34 da Napoli per Sorrento. Nei giorni feriali il luogo dei treni precedentemente indicati verranno effettuati i treni direttissimi come da programma festivo con il stradamento via Barra, treno delle ore 6.48 da Sorrento per Napoli, treno delle ore 18.48 da Napoli per Sorrento. Per quanto riguarda invece la linea Napoli-San Giorgio-Torre del Greco, le corse ferroviarie saranno sospese dal giorno 27 giugno fino al 31 agosto 2022.